Tu mi stai dicendo che volontariamente non sai cosa si dice su di te del tuo hotel online. Ciao a tutti, sono Alessia, benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi voglio parlare delle recensioni online. Ho già fatto un altro video in merito, però oggi voglio approfondire determinati aspetti. Prima di iniziare voglio invitarvi a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e alla fine del video vi aspetto nella sezione commenti. Ma veniamo a noi, perché vi voglio fare di nuovo questo discorso. Sono appena tornata dal bit di Milano 2020 e mi aspettavo sinceramente che la mentalità degli albergatori fosse un po' cambiata. Nel senso che i discorsi sono stati molto simili a quelli che si facevano già un anno fa e io ritenevo che alcuni aspetti fossero già consolidati e quindi si fossero passati oltre e invece non è stato così. Questo discorso riguarda anche le recensioni. Le recensioni sono ancora un'attività secondaria da fare nel tempo libero e molto spesso sottovalutata. Quindi diverse volte non si pensa alla sua utilità. Per questo oggi ve ne voglio parlare. Le risposte che ho avute sono state anche varie. Io ho affrontato molto questo argomento delle recensioni perché è uno dei servizi che io offro, ovvero quello di risposta. perché deve essere fatto in un determinato modo. E come dicevo ho ricevuto diverse risposte tipo visto che su TripAdvisor potrebbero esserci recensioni false noi nemmeno le leggiamo. Quindi tu mi stai dicendo che volontariamente non sai cosa si dice su di te si cosi dice del tuo hotel online. Quindi non hai modo di gestire una recensione anche se eventualmente falsa. Altri rispondono che ovviamente deve essere un lavoro fatto bene non può essere fatto a caso. Se rispondi o rispondi a tutti o non rispondi a nessuno e quindi non lo facciamo proprio. Altri invece dicono io faccio da me e fin qui mi sa anche bene il punto è che deve essere fatto da una persona competente. Voi non potete immaginare quante volte su Facebook o sui gruppi di persone che lavorano in questo settore non avete idea di quanti post leggo di persone che si vantano di aver risposto male a una recensione negativa. Ora, quella persona o andrebbe licenziata in tronco perché sta andando a ledere la vostra bella reputation e a farvi danni pazzeschi e adesso vedremo il perché o se voi siete il proprietario ancora peggio. Vuol dire che di questo mestiere non avete capito nulla. Anche perché le cose non le possiamo fare come si facevano vent'anni fa. Adesso il digital fa parte di questa attività e voi non potete considerarlo come un aspetto superfluo soprattutto il marketing i vostri concorrenti lo stanno già facendo voi avete deciso di non farlo perché anche questo è una strategia di marketing quella di rispondere alle recensioni e quindi voi state rimanendo indietro. Sempre al bit le risposte erano TripAdvisor, ma TripAdvisor di qua TripAdvisor così, TripAdvisor colè che le persone preferiscono più rispondere alle recensioni degli OTA perché sono più verificati sono dei viaggiatori che hanno viaggiato per davvero ma Google My Business praticamente non lo utilizza nessuno di noi io sono la prima mi sto iscrivendo in questo periodo a Google My Business ma un hotel dovrebbe averlo già fatto Google My Business prima di tutto è gratuito permette alle persone di recensire quindi sì, potreste avere gli stessi rischi di TripAdvisor questo è vero ma che cosa fa Google My Business? o comunque cosa fa Google in generale? Google analizza tutte le recensioni che voi ricevete non solo lì ma anche su altri portali su altre piattaforme e le parole che ricorrono più frequentemente le prende come parole chiave e le parole chiave Google le ama e vi aiutano a voi per il posizionamento quindi nel momento in cui c'è una recensione anche se negativa voi dovete rispondere perché voi in quella risposta metterete determinate parole chiave che a voi interessano ad esempio una persona ha detto anzi, prendiamo l'esempio volevo fare un esempio di una recensione positiva invece no faccio un esempio di una recensione negativa una persona ha criticato la vostra pessima colazione magari voi non siete d'accordo vabbè, il fatto che dovete rispondere in modo educato io lo do già per assodato qui potete dire ci dispiace che la nostra colazione non le sia piaciuta noi ci teniamo a utilizzare prodotti naturali prodotti genuini tutti ovviamente mettete cose vere e tutti aggettivi positivi e le mettete la prima, la seconda, la terza mano a mano Google questo li prenderà come parole chiave oppure qualcuno ha ammirato la vostra vista sul lago di Garda non rispondete grazie per la sua recensione grazie per la sua recensione siamo contenti che abbia ammirato la vista sul lago di Garda quindi se non l'ha fatto il cliente l'avete scritto voi che siete sul lago di Garda quindi nel momento in cui ci sono diverse parole chiave che si collegano al vislago di Garda e si collegano al vostro hotel nel momento in cui una persona cerca su Google hotel sul lago di Garda è molto probabile che l'algoritmo vi vada a posizionare più in alto perché come dicevo Google lavora per parole chiave quindi questa motivazione dovrebbe già spingervi immediatamente ad andare a rispondere subito alle vostre recensioni ovviamente questo discorso vale sia in inglese che in italiano ci mancherebbe ma vediamo altri aspetti oltre a fatto delle parole chiave quindi la risposta deve essere personalizzata non solo per questo motivo ma mettere quelle due righe preconfezionate a tutti è controproducente perché significa che le persone si rendono conto che l'hai fatto giusto per passare il tempo ma forse quella recensione nemmeno l'hai letta attentamente ed è stato dimostrato che i clienti che leggono le recensioni non che si limitano a guardare le stelline e basta sono più propensi ad andare nelle strutture ricettive che rispondono alle recensioni perché hanno la percezione e la percezione è tutto nel mondo digital neanche un call offline hanno la percezione che i clienti vengano ascoltati e questo credetemi fa davvero tanto come vi dicevo ho già fatto un altro video dove parlavo delle recensioni vi facevo soprattutto gli esempi per quanto riguarda le recensioni negative vi raccontavo anche di una personalissima case history quindi vi invito alla fine del video ad andare a guardare anche quello però dei consigli che vi voglio dare rispondete quindi alle recensioni rispondete entro 24 ore non impiegateci giorni e giorni non rispondete male e non affidate al primo che capita questo lavoro la risposta alle recensioni non può essere fatta nei ritagli di tempo molto spesso vedo che viene assegnato questo lavoro a una persona che è già obberata di lavoro ma voi le date altro tanto questo è un aspetto secondario quindi tra un cliente e l'altro se non ha niente da fare rispondono alla recensione però questa cosa non si può fare in 5 minuti e soprattutto non potete limitarvi a fare solamente questo ma dovete anche analizzare queste recensioni perché anche se voi non siete d'accordo con i clienti o perché hanno lasciato una recensione negativa o siete d'accordo con una recensione positiva tutte queste recensioni parlano e molte volte voi siete quelli che non le ascoltate quindi magari il primo che si lamenta dei cornetti colazione fantastica a me i cornetti erano e il secondo, il terzo, il quarto e il quinto significa che quei cornetti li dovete levare perché non sono buoni dovete cambiare marca, fornitore, chi volete voi però mi raccomando leggete le recensioni e analizzatele fate un report io consiglio un report bisettimanale scegliete quali sono i criteri di riferimento io consiglio anche di fare una suddivisione sul tipo di viaggiatore che lascia la recensione in modo tale anche da capire la tipologia di viaggiatore come si trova nella vostra struttura e quali sono le carenze riscontrate quindi ora vi consiglio di andare subito a rispondere alle vostre recensioni vi ho dato delle motivazioni più che valide per farle se non lo potete fare voi assumete qualcuno che lo faccia a vostro posto come sempre mi potete contattare e nell'info box trovate tutti i dettagli vi aspetto nella sezione commenti fatemi sapere come voi gestite le vostre recensioni besos